Musica Amici del campionato universitario bentornati dal Baggio Park in campo da Coppa Pentagono Euro Milano Contro un partizante grado condizionato per il momento da un paio di assenze di troppo Si attende comunque l'arrivo dei rinforzi Euro Milano che dunque proverà senza dubbio a colpire subito nei primissimi minuti E sfruttare poi il vantaggio nei seguenti minuti di gioco Ovviamente non ha fretta, adesso ancora Giuliano che riceve, può pensare anche al tiro, punta l'avversario Ancora Jacono sulla destra, rientra sul mancino, cambia di nuovo il tutto Poi occhio alla conclusione della distanza Subito Euro Milano in vantaggio, che gol dalla distanza si è fatto sorprendere questa volta Preti Non irresistibile, ha lasciato uno spiraglio alla difesa del partizante grado 1-0 Battuto adesso verso... dal centro dell'area di rigore, dove stacca tutto solo Giuliano, poi ancora Giuliano Ma c'è il fischio del direttore di gara Risultato ancora fermo sull'1-0, ma ancora occasione per Euro Milano Questa volta non ha colpito Giuliano Riceve Giuliano centralmente, poi ricomincia con calma Palla in verticale, D'Amore riesce ad agganciarla, attaccato da due uomini Si gira D'Amore, aspetta l'arrivo di Giuliano, lo serve, può calciare dalla distanza Giuliano verso l'angolino, riesce a respingere Preti E poi D'Amore non c'entra la porta, ancora alta la pressione di Euro Milano Che riesce sempre ad arrivare alla conclusione indisturbata Adesso ancora con calma Euro Milano, che allarga sulla sinistra Si fa vedere sempre Giuliano, servito ancora una volta Adesso può allargare Bonvegna, torna da Giuliano Alza la testa, cerca la palla in profondità Per D'Amore che anticipa tutti di testa Sembrava essere comunque sulla traiettoria Preti Al pallonetto di D'Amore, comunque si spegne sul fondo Poi Di Vincenzo torna da Preti Non trovando nessun compagno libro, la chiama ancora Di Vincenzo Preti invece andrà verosimilmente con il lancio lungo Infatti è così Palla direttamente verso la porta Attraversa La parte di Preti incredibile Poi Bonvegna si rifugia in calcio d'angolo E questa è un po' l'immagine di questo partizan degrado Che avrebbe la qualità per colpire Ma non riesce a trovare spazi E allora l'unica occasione è arrivata dai piedi di Preti Giuliano si gira attaccato, riesce a liberarsi di due uomini Ancora Giuliano può calciare Cerca invece l'imbucata per D'Amore Una finta ancora D'Amore Calcio adesso Arriva tutto il destro di D'Amore Poi Partizan che prova a reagire di partire in contropiede Attenzione ancora Di Vincenzo Le sue finte Rientra sul destro Calcio a Di Vincenzo verso l'angolino Palla fuori non di molto Giuliano allarga sulla sinistra Ancora il pallone messo dentro 2-0 in Euro Milano Che adesso vuole scavare il solco fra sei gli avversari Ancora sei nei Blancos Partizan chiamato ad una rimonta A questo punto davvero molto complicata Passi ancora Bonini Salta un avversario Cerca il dribbling Doppio passo di Bonini Fermato ma può calciare di Vincenzo dalla distanza Spara ancora a salve il Partizan de Grado E finisce qui il primo tempo regolamentare 2-0 in favore di Euro Milano Ma il Partizan comincia ad ingranare È tutto pronto per il fischio di inizio del secondo tempo Che arriva adesso C'è subito una conclusione Velle Italia di Rodriguez Per un Partizan de Grado Che è costretto a provare In tutti i modi a ribaltare il risultato 2-0 Desito del primo tempo regolamentare In favore ovviamente di Euro Milano Ancora Partizan però Si fa vedere Marles la giocata Bellissima da parte di Medigo Che salta l'avversario Non c'è il fallo però Secondo direttore di gara Poi calcia Rodriguez La traversa colpita dal Partizan de Grado Che sembra l'entrata Nella ripresa Con un piglio decisamente diverso Ma attenzione ancora Euro Milano Con Damore che prova ad anticipare L'uscita di Preti Poi la conclusione dalla distanza La deviazione Il 3-0 Firmato Castelli Dal centrocampo Castelli ha visto L'uscita Sconsiderata di Preti Ed è riuscito ad anticipare Il suo rientro tra i pali 3-0 dunque Euro Milano E adesso il Partizan Vede davvero chiusa La porta verso il passaggio del turno Ancora Marles Sta la porta sul destro Dribbling va via Mezza 3 Poi rischia di perdere il pallone Ancora Marles Di forza Rodriguez Lascia lì per la conclusione Di Vincenzo Deviata Poi arriva Bonini 3-1 Partizan de Grado Che prova a ripartire E reagire Dopo La scoppola Del 3-0 Il tiro di Bonini Deviato Anche un po' fortunato Che potrebbe Dare nuova linfa Ai ragazzi di Maglia Blu Si fa sentire probabilmente L'assenza di Crista Qui la chiusura Attenzione di Vincenzo Che deve anticipare Castelli Ci riesce Ancora Di Vincenzo Punta l'avversario Lo salta Le finte di Di Vincenzo Il suo destro Deviato 3-2 Il partizan de Grado Che adesso vede la luce Solo un gol A separare le due squadre E Romiano Irriconoscibile In questa ripresa Batte Bombegna Subito il partizan Lo dì che sta attaccato Da Damore Bella la palla Attenzione alla conclusione Dalla distanza Ad un passo Dal 3-3 Il partizan de Grado Crista in panchina Sta cominciando Ad avere qualche capello Bianco in più Via con la cazzo di palla Giallo Non salire troppo Perché tra l'altro Occhio a Damore Che controlla Palleggia Ancora Damore Cerca di girarsi E poi calcia col mancino Come un rapace D'aria di rigore Damore si è girato In un fazzoletto Il suo sinistro Però si è spento A pochissimi centimetri Dal palo Servito adesso Castelli Che elude l'intervento Nio avversario Ancora Castelli Può andare via Sulla faccia Cerca il fondo Lo tiene Calcia Castelli Vedete una porta Che non c'è Però il numero 11 D'Euro Milano Pallone larghissimo Sul fondo Ancora Partizan In avanti Esce il portiere D'Euro Milano Con la testa Riesce ad allontanare Occhio al Partizan Che riesce a tenere Il pallone in campo Con Di Vincenzo Adesso Rodriguez Deve andare via Può calciare Allarga sulla sinistra Per il tiro Dalla distanza Alla traversa Incredibile Partizan Ancora ad un passo D'altro a tre E qui la diabendata Sta davvero facendo Un grosso favore A Frank Christ E i suoi uomini Partizan de Grado Fa la rilanciata Ma non c'è più tempo Game over Per il Partizan Euro Milano Passa dunque il turno 3 a 2 Roccambolesco Dopo L'inizio di gara Decisamente In favore di Euro Milano Da Davide Miani Per il momento è tutto Grazie e alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti